Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui quadrilateri oggi andremo a vedere i parallelogrammi. Quindi nel corso di questa lezione andremo a definire che cos'è questa figura geometrica, il parallelogramma, vedremo come si trova l'altezza relativa ad un dato lato del parallelogramma e finiremo andando a vedere la relazione tra gli angoli di un parallelogramma. In particolare andremo a delineare un parallelo, se mi passate il termine, tra i trapezzi e i parallelogrammi. E cominceremo la lezione di oggi con un piccolo esercizio. Per quelli di voi che hanno visto il mio precedente video sui trapezzi, dovreste riconoscere queste immagini. Qui abbiamo diverse figure geometriche e quello che vi chiederò in questo caso sarà di identificare quali queste figure geometriche sono, secondo voi, dei parallelogrammi. Come al solito vi consiglio di mettere in pausa il video, provare e poi far ripartire il video. Ecco, di nuovo per quelli di voi che hanno visto il mio video presente sui trapezzi, questa figura in alto a destra è un trapezzo, ma in quanto trapezzo non è sicuramente un parallelogramma. Molti di voi avranno sicuramente identificato come parallelogramma questo poligono in giallo. E forse qualcuno di voi ha anche questo poligono in viola. Tuttavia, e questo a questo punto non dovrebbe risultare una sorpresa, ci sono altre due figure che sono in realtà dei parallelogrammi. ovvero questa e questa qui. Le altre figure, vabbè, questo come l'altra volta e questo non sono dei poligoni, questo è un pentagono, quindi ha cinque lati, quindi chiaramente non è un quadrilattere, quindi non può essere un parallelogramma, questo è un triangolo, e questo è un esagono, e questo è un decagono, se tutto è concavo, insomma. Quindi, andiamo a vedere perché queste quattro figure rientrano nella nostra definizione di parallelogrammi. Colleggiamo insieme la definizione di parallelogramma. Un parallelogramma è un quadrilatero, e su cui dovremmo essere tutti d'accordo, quindi un poligono, un quattro lati, con due coppie di lati opposti, paralleli e congruenti. Quindi, vedete, il parallelogramma rientra, no, nella nostra precedente definizione di trapezio, ma ha qualcosa in più. Nel trapezio c'era almeno una coppia di lati opposti e paralleli, ma non necessariamente congruenti. Nel caso del parallelogramma, le coppie di lati opposti e paralleli sono due, quindi ogni lato corrisponde a un altro lato che è adesso parallelo e congruente. E se torniamo indietro all'immagine di prima, questa è chiaramente la figura in giallo, rientra chiaramente nella nostra definizione classica di parallelogramma. La figura in viola, che poi in realtà è un rombo, è un parallelogramma con qualcosa in più, cioè è un parallelogramma con tutti e quattro i lati uguali, quindi è un parallelogramma equilatero. In rettangolo, questa figura all'estrema destra, è anch'essa un parallelogramma, perché infatti ha le due coppie di lati opposti e paralleli e congruenti, ma anche se ha qualcosa in più rispetto alla definizione generica di parallelogramma. In particolare, il rettangolo è un parallelogramma equiangolo, perché ha tutti e quattro gli angoli uguali, e in particolare è uguale a un angolo retto. Infine, il quadrato è anch'esso un parallelogramma, a questo punto però con due cose in più, cioè è sia equilatero che equiangolo. Questo ci porta direttamente a quel diagramma di Euler-Rouven che avevamo visto nel video precedente sui trapezzi, cioè all'interno della grande famiglia di trapezzi, quindi di quei quadrilatri che hanno almeno due lati paralleli, abbiamo quelli che hanno due coppie di lati paralleli, che sono i parallelogrammi, all'interno dei quali abbiamo i parallelogrammi equiangoli, che sono i rettangoli, i parallelogrammi equilateri, che sono i rombi, e quei parallelogrammi che sono sia equilateri che equiangoli, cioè regolari, sono i quadrati. Ecco, ora è venuto il momento di armarsi di matita e righello, perché quello che faremo insieme sarà di disegnare le altezze di un parallelogramma, ma prima di questo dobbiamo disegnare un parallelogramma. Molto spesso, al contrario di quadrati, triangoli e rettangoli, il parallelogramma a volte può dare un po' di difficoltà. Allora, qualche piccolo consiglio su come si può disegnare per bene un parallelogramma, usando chiaramente il righello. Anche se non avete la carta quadrettata, comunque, però la carta quadrettata chiaramente aiuta, il primo passo è disegnare una linea orizzontale, meglio se di lunghezza nota. Per esempio, ora ne ho appena fatta una di lunghezza pari a 10 cm con il mio righello. Poi, voi fate la lunghezza vi pare, se avete la carta quadrettata fatela di un numero definito di quadretti. Bene, quindi questo è il primo passo. Tra le tre cose, chiaramente, man mano che disegnate, mettete in pausa il video per arrivare poi all'istruzione successiva. A questo punto cosa fate? Prendete sempre il vostro righello, e qui davvero, forse, avere la carta quadrettata aiuta, e vi conviene disegnare un'altra linea della stessa lunghezza, parallela alla precedente, quindi, di nuovo, qui la quadrettatura del foglio vi può aiutare, ma questa linea deve essere sfalsata rispetto alla prima. Quindi vedete come ho spostato, per esempio, il mio righello un po' sulla destra. E quindi cosa faccio? A questo punto, e l'opposizione dove mi pare, per esempio così, a questo punto disegno un'altra linea, un altro segmento della stessa lunghezza del precedente, quindi in questo caso di 10 cm. In realtà io potevo, a questo punto, utilizzare le funzioni di copia e incolla di questo slide, ma facciamo finta proprio di averlo sul foglio. A questo punto è abbastanza evidente quali sono i passaggi successivi da fare. Andiamo a unire questi due segmenti per andare a fare le altre due lati del nostro parallelogramma. e chiaramente se abbiamo fatto le cosine per bene, questi due lati, o se abbiamo fatto le cose per benino, questi due lati obliqui dovrebbero venire esattamente della stessa lunghezza. Ok? Però l'importante è insomma. Quindi, ricapitolando, una linea orizzontale di lunghezza nota, un'altra linea orizzontale della stessa lunghezza, ma sfalsata rispetto alla precedente, e poi unire. E così abbiamo disegnato il nostro parallelogramma. Veniamo all'altezza. Allora, l'altezza è quel segmento che unisce un vertice con il lato adesso opposto, con il lato adesso opposto. Per esempio, consideriamo questo lato qui, questo che potremmo chiamare per esempio la base del nostro parallelogramma, però diciamo un lato, anzi, usiamo anche le lettere. Quindi A, B, C, D. La convenzione di solito non si parte dall'angolo in basso a sinistra e poi ci si muove in senso anti-orario. Allora, io voglio disegnare l'altezza che parte dal vertice D e arriva sul lato AB. Giusto per far capire nuovo l'idea dell'altezza, dovreste immaginarvi di, che so, di arrivare nel punto D e lasciar cadere un sasso che cade per gravità sul lato B. Quindi questo sasso si muoverà lungo la verticale e la sua traiettoria disegnerà una linea che sarà perpendicolare ad AB. Quindi, come faccio a disegnare una linea perpendicolare? La cosa migliore è chiaramente prendere una squadra, ok? Se non avete una squadra, insomma, dovete un attimo ingegnarvi e fare cose per benino, oppure aiutarvi con la quadrettatura del foglio, va bene? Quindi, abbiamo la nostra squadra, la posizione in modo che uno dei cateti, perché sapete, la squadra non è altro che un triangolo rettangolo, la posizionate con un cateto che si appoggia sul vostro lato e sull'altro che passi appunto dal vertice da cui parte poi la nostra altezza e andiamo a disegnarla. Ecco fatto. Ok? E quindi questa è l'altezza, come si dice, di H è l'altezza relativa e ora spiegherò perché relativa al lato AB. E che ci fa capire che le altezze non ce n'è una, ma ce ne sono due. perché dal punto D io potrei far cadere un sasso anche sul lato BC. Come è possibile? Non si può muovere in diagonale. Cioè, dovete immaginare cosa succede se io prendo il mio programma e lo giro in modo da appoggiarlo sul lato BC. Ora, in questo caso non andrò a fare questa cosa, ma quello che farò sarà di prendere di nuovo la mia squadra e scusate, e ruotarla in modo da appoggiarla sul lato vediamo se ci si fa sul lato BC. No, ancora non l'ho messo giusto. Eccoci qua. E di nuovo appoggiarla su BC e con l'altro cateto appoggiarmi sul lato B. E qui andiamo a disegnare più o meno dritta eccola qua la seconda altezza. ecco, così si disegnano le due altezze di un parallelogramma. Giusto per rivedere lo stesso disegno ma fatto con un pochino più di cura. Abbiamo il nostro parallelogramma ABCD e dal vertice D abbiamo DH che è l'altezza relativa al lato AB e quindi vi ricordo DH forma due angoli retti così rispetto al lato AB e DK è l'altezza relativa al lato BC. Quindi a seconda di come noi mettiamo il parallelogramma e questo è un po' il succo del discorso noi avremo due basi e due altezze cioè in questa configurazione AB è la base e DH è l'altezza. se immaginiamo di ruotare il nostro parallelogramma e appoggiarlo su BC a questo punto BC diventa la base e DK diventa l'altezza. Finiamo oggi la lezione come vi avevo promesso con un breve paragone un parallelo appunto se vi passate il termine tra trapezzi e parallelogrammi. A sinistra vedete un trapezio generico a destra un parallelogramma. Quali sono le caratteristiche? quindi nel caso del trapezio abbiamo una coppia di lati opposti paralleli non necessariamente congruenti. Nel caso del parallelogramma abbiamo due coppie di lati opposti che non sono solo paralleli ma sono anche congruenti fra di loro. Gli angoli di un trapezio la somma degli angoli interni di un trapezio è uguale a un angolo giro e questo è vero per tutti i quadrilateri chiaramente però cosa abbiamo in più? Gli angoli appartenenti allo stesso lato obliquo sono supplementari quindi che so andiamo a vedere per esempio qui l'angolo A e l'angolo D quindi gli angoli che fanno riferimento allo stesso lato obliquo sono supplementari quindi la loro somma fa 180 gradi nel caso di un parallelogramma di nuovo la somma degli angoli interni fa 180 gradi 360 gradi scusate cioè un angolo giro ma non solo gli angoli opposti sono congruenti cioè gli angoli consecutivi sono come nel caso del trapezio supplementari quindi E e H insieme fanno 180 gradi ma in più quindi vi ricordo il parallelogramma ha delle cose in più i lati opposti e gli angoli opposti sono congruenti quindi E sarà uguale a G H sarà uguale a F infine le diagonali di un trapezio non sono congruenti fra di loro e non sono perpendicolari non fatevi ingarare da questo disegno questo mi sembra un trapezio esoscile quindi nel caso particolare di un trapezio esoscile diagonali sono congruenti ma in generale non lo sono mentre nel caso di un parallelogramma non sono congruenti e non sono perpendicolari tra di loro quindi almeno in questo le cose sono le stesse continueremo successivamente a vedere rettangoli rombi e quadrati ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boscherini grazie a tutti